L'estenuante trattativa di Bruxelles sui fondi europei da destinare ai paesi in difficoltà economica per l'emergenza Covid, ma anche il nuovo passetto del sistema autostradale dopo l'estremissione dei Benettoni. Buonasera e benvenuti a TG2 Post, ne parliamo questa sera con i nostri ospiti studio, ve li presento subito, il ministro Paola De Micheli del Partito Democratico, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, benvenuta, il direttore del TG2 Gennaro San Giuliano. Buonasera a tutti. Allora, prima di parlare qui in studio con i nostri ospiti, io però farei il punto della situazione su quello che in questi momenti sta ancora succedendo a Bruxelles, dicevamo un'estenuante trattativa negli ultimi tre giorni e sembra si stia andando verso un accordo. Allora io andrei subito a Bruxelles dall'inviato della RAI Enzo Arceri, al quale chiedo, le voci di un accordo possono essere confermate, ci sono già dei numeri che riguardano l'Italia. A te. Sì, ci sono dei numeri che riguardano l'Italia e sicuramente le possibilità di riuscire a raggiungere un accordo entro stanotte, comunque ci si aspetta una maratona negoziale abbastanza lunga anche oggi. Queste probabilità sono aumentate con la presentazione della bozza, del piano di mediazione del Presidente del Consiglio europeo Michel. Il recovery fund resta l'ammontare dell'impianto originario, 750 miliardi, cambia la sua composizione interna, 500 miliardi che era la proposta della Commissione europea di finanziamento a fondo perduto, diventano 390, il resto prestiti da rimborsare. I numeri che riguardano l'Italia, dicevi, la cifra è ancora da confermare, i calcoli devono essere rifiniti e raffinati, si tratta di 82 miliardi di prestiti a fondo perduto, di sovvenzioni a fondo perduto e 127 miliardi di prestiti. Altro aspetto che era stato un nodo significativo durante il negoziato sono i rebates, cioè dire gli sconti sui contributi che i singoli Stati membri versano al bilancio dell'Unione. Generalmente quelli che se ne avvantaggiano di più sono gli Stati ricchi d'Europa, infatti i maggiori rimborsi andranno a Olanda, Danimarca, Austria, Svezia, cioè il gruppo dei frugali e alla Germania. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Enzo Arceri, torniamo in studio subito con il Ministro, perché Ministro noi immaginavamo che fosse una trattativa in salita, quella di Bruxelles, si sapeva già, alla vigilia, però non ci si aspettava una tale e tanta resistenza dai cosiddetti paesi frugali, quasi una resistenza al di là dell'aspetto economico, quasi culturale nei confronti dei paesi del sud dell'Europa, una diffidenza, chiamiamola così. Diciamo che anche noi ci abbiamo messo del nostro, perché mi pare che al momento tra i vari paesi dell'Unione è l'unico che non ha presentato ancora un piano organico sugli investimenti che faremo con i soldi che riceveremo, è proprio l'Italia. Beh, che l'ostilità che soprattutto nel primo giorno è emersa dalle dichiarazioni pubbliche da parte dei paesi cosiddetti frugali dell'Europa nei confronti dei paesi del sud è stata veramente soprattutto culturale e questo è un problema, rimarrà un problema. Un problema in generale per l'Unione Europea su tutti i temi. Perché l'Unione Europea è una cosa che nasce, è un'istituzione che nasce esattamente per andare oltre anche queste diversità culturali. Io credo che il governo, il Presidente Conte con la, diciamo così, ormai nota pazienza e determinazione stia guidando questa trattativa con grande autorevolezza, con grande consapevolezza e credo che i ministri che lo stanno assistendo, i miei colleghi che lo stanno assistendo, penso soprattutto Denza Mendola, Roberto Gualtieri, stiano dimostrando, diciamo così, la capacità negoziale necessaria per essere convincenti, autorevolmente convincenti nei confronti di questi paesi. Ma non era meglio presentarsi con un piano già in mano? Noi abbiamo il piano, l'accordo che non è assolutamente un segreto, prevede che debba essere trasmesso all'Europa in autunno nel mese tra settembre e ottobre. Noi abbiamo già, peraltro, liberato il piano nazionale delle riforme e l'allegato sulla parte di investimenti infrastrutturali. Come sapete gli investimenti nel paese non sono solo su le ferrovie, i porti o sulle strade, ma gli investimenti sono molto più ampi di quelle che sono le, diciamo così, deleghe del mio ministero. Il piano delle infrastrutture è già stato inviato anche alle Camere, noi l'abbiamo anche presentato pubblicamente come Italia Veloce e quindi il piano esiste. Credo che questa sia un pochettino una scusa che nasconde invece la realtà dei fatti che lei ha perfettamente individuato. Una questione di differenze culturali. Attenzione, il fatto che l'Italia sia in grado di rispettare gli accordi che noi prenderemo a valle di questo negoziato è la questione fondamentale, quindi stabilità di governo, continuità delle politiche infrastrutturali, continuità delle politiche economiche. E su questo io credo che nessuno, meglio del Presidente Conte, sia in grado di dare questa garanzia all'Unione Europea. Direttore. No, il ministro ha ragione sulle diffidenze culturali. Per molti nord europei noi siamo ancora il paese dei limoni, come lo descrisse Goethe, cioè un bel paese dove venire a fare le vacanze, dove apprezzare l'enogastronomia, punto e basta. Io vorrei dare invece delle informazioni e spiegare che cos'è il rebate. Il rebate è un retaggio di Margaret Thatcher, perché fu quel meccanismo che la Thatcher, che era sostanzialmente euroscettica, impose all'Europa quando la Gran Bretagna trattò con l'Europa e praticamente l'allora Gran Bretagna versava la sua quota al bilancio comunitario, però si faceva restituire una parte di quel versamento. Poi sappiamo che per effetto di Brexit la Gran Bretagna è andata via, sta andando via e allora, questa è una piccola vittoria dei paesi frugali, dobbiamo riconoscere i fatti, hanno stabilito un rebate. Per esempio la Germania otterrà indietro 3 miliardi virgola 671 milioni, la Danimarca 322 milioni, mi sono appuntato le cifre, l'Olanda avrà indietro quasi 2 miliardi, 1 miliardo punto 921 milioni di euro, l'Austria 565 milioni, la Svezia circa 1 miliardo. Cioè sono soldi che loro versano al bilancio comunitario ma si riportano indietro a casa. Ovviamente nel ribette non c'è l'Italia, non c'è la Grecia, non c'è la Francia, ma ci sono questi paesi, questa è una notizia. Direttore, io credo che sia, come dice lei, una piccola vittoria di dimensioni perché il punto che alla fine di questa trattativa si sancirà per la prima volta in Europa è invece un risultato, nonostante le fatiche, le discussioni, poi dopo avremo tutto il tempo nei prossimi giorni, per tutte quelle che sono le analisi e gli approfondimenti, ma il fatto che l'Europa faccia una cosa insieme per i paesi più colpiti e lo faccia come Europa, non come singoli paesi, non come rapporto tra l'Italia e la Germania, ma come Europa, come Unione Europea, fa fare all'Europa un salto in avanti quando fino a tre giorni fa il rischio per l'impostazione dei paesi frugali di cui prima parlava lei, era quello invece di farci tornare indietro ad un modello europeo che non aveva niente di solidale. C'è un passaggio del riconoscimento delle difficoltà dei paesi che hanno subito maggiormente le conseguenze della pandemia, ma c'è anche un'altra grande idea dietro, che è stata portata avanti dalla Commissione in quanto istituzione europea e non in quanto luogo di rappresentanza dei singoli stati. E il salto in avanti è che l'Europa fa una cosa insieme per i paesi europei. E io credo un'iniziativa miliardaria per sostenere l'economia dei paesi europei. E io credo che questo, al di là di tutte le limitazioni che sono state prima illustrate dall'inviato della RAI, ci consente comunque di entrare in una nuova stagione europea. Questa è la grande vittoria dei grandi paesi che si sono coalizzati per arrivare a questo rischio. L'Europa va detto che ha dato molto a un paese come la Germania. La riunificazione tedesca delle due Germanie non sarebbe stata mai possibile se non ci fosse stato il quadro europeo. Perché Mitterrand, i francesi, erano molto diffidenti. Il nostro Giulio Andreotti disse amo talmente la Germania che ne voglio due. L'allora Unione Sovietica era molto diffidente e queste diffidenze che c'erano nel mondo occidentale e c'erano nella loro Unione Sovietica furono superate grazie al fatto che la Germania era diventata europea. Oh, allora, abbiamo sentito nominare spessissimo in questi giorni, in queste ore questo nome Rutte, che è il primo ministro appunto olandese che è sembrato un po' uno spauracchio comunque il capofila dei cosiddetti paesi frugali. Un personaggio da conoscere meglio nel dettaglio anche negli aspetti personali. Seguiamo questo profilo di Cristiana Ruggeri. È il politico più longevo d'Europa dopo Angela Merkel da dieci anni leader in Olanda con il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia di stampo libera al conservatore. La maggioranza degli italiani, forse, l'ha conosciuto di recente in pieno lockdown per un video divenuto virale. Non date i nostri soldi agli italiani e agli spagnoli gli grida un netturbino. E lui risponde secco. No! Classe 1967, single, una laurea in storia, una grande passione per il pianoforte e per la squadra del Feyenoord. Mark Rutte è l'uomo che, secondo indiscrezioni, il presidente Macron avrebbe definito il poliziotto cattivo. Oggi la testa d'ariete dei cosiddetti paesi frugali. Figlio di un commerciante, sembra che la frugalità e l'ossessione per il controllo delle spese facciano parte del suo background. Guida un'auto usata, a cui preferisce la bicicletta, abita nella stessa casa dell'Aia in cui si è trasferito dopo la laurea. Estremamente sobrio, la vita non gli risparmia dolori. Ultimo di sette figli, perde il padre, una sorella e un fratello. Di recente la mamma, 96 anni, a cui è molto legato, viene ricoverata in ospedale per coronavirus. Lui non va a trovarla per non violare le norme e dare l'esempio. La vede in tempo per dirle addio. Freddo, ligio al dovere, i sondaggi al momento pregnano la sua intransigenza. Rutte intende presentarsi alle prossime elezioni come l'uomo che difende gli interessi degli aeroscettici olandesi. Ma se continua a tirare la corda del negoziato, rischia di passare alla storia come l'artefice del fallimento dell'Unione. Insomma, un personaggio particolare, Rutte, degli aspetti quasi calvinisti per la sua rigore, la sua serietà e quindi evidentemente qualche problematica di ordine culturale con popoli un po' diversi dal suo probabilmente ci sono stati anche in queste trattative di Bruxelles. Io recupero una idea, una riflessione che ha fatto il già Presidente del Consiglio, Enrico Letta, qualche giorno fa. Mentre si consumava questa trattativa così dura io penso che chi rappresenta il 7% degli europei non possa permettersi di avere un atteggiamento così rigido e non rigoroso perché il rigore è la giusta pretesa della reciprocità nei rapporti dentro all'Europa. La rigidità parte da un preconcetto e io da europea e credo gli italiani come gli spagnoli come gli stessi tedeschi non possiamo immaginare di stare dentro ad un'unione con prospettive forse di medio termine anche federali dove abbiamo tentato di sostenerci per esempio sulle questioni sanitarie nella mia città drammaticalmente colpita da Covid Piacenza Piacenza sono partiti ammalati, sono stati curati a Francoforte quella lì è l'Europa alla quale quelli della mia generazione nati negli anni 70 aspirano e io credo che questi pregiudizi nei confronti di paesi che devono affrontare una situazione economica difficile e che dovranno affrontare una situazione sociale difficile siano atteggiamenti che non aiutano la crescita di tutta l'Europa perché non è che l'Olanda è un'isola non interdipendente economicamente dal resto dell'Europa loro non vivono su un monte e diciamo così governano la loro economia senza di noi noi stiamo dentro reciprocamente dentro ad un rapporto che prevede che chi è più in difficoltà debba essere sostenuto Ministro la devo fermare perché è l'altro tema di questa sera ed è il tema di cui lei è titolare di cattedra perché è Ministro delle Infrastrutture è quello delle autostrade che il simbolo di tutta la questione autostrade è il nuovo ponte di Genova costruito nello stesso luogo dove ci fu la tragedia di due anni fa con 43 povere vittime allora noi ci colleghiamo proprio con il nuovo ponte di Genova con il collega della RAI di Genova Oscar Puntella guardiamolo alle spalle il tuo ponte il nuovo ponte ieri è stato anche testato diciamo sulla stabilità a te Oscar oggi è stato il giorno numero due del collaudo statico del nuovo ponte di Genova i tir hanno praticamente spento i loro motori qualche ora fa tir carichi di sabbia un peso per ciascuno di questi tir di 44 tonnellate oggi ne abbiamo contati 23 si sono posizionati in punti diversi del nuovo ponte di Genova e tutti i dati tutte le informazioni raccolte sono state confrontate con quelle del progetto per capire se appunto la struttura in qualche modo e le come dire quelle che possono essere appunto le ripercussioni sulla struttura di questi pesi sono conformi al progetto ovviamente del nuovo ponte di quello che è il ponte di Genova un ponte che la città ha desiderato e ha voluto sono test questi che andranno avanti ancora per cinque giorni c'è anche una data importante quantomeno un insieme di date quella che va dal primo agosto al 5 agosto il commissario alla ricostruzione Marco Bucci ha parlato di un arco temporale nel cui potrebbe avvenire appunto l'inaugurazione di questa infrastruttura accordi sono in corso proprio con il Presidente della Repubblica con il Quirinale proprio perché è prevista la presenza di Sergio Mattarella questo però è un ponte che segna come dire una sorta di prova di riscatto per la città piegata ferita dopo quel 14 agosto 2018 il crollo del ponte Morandi tutti lo ricorderete 43 vittime ma questa è anche una infrastruttura fondamentale per la città ricordiamo che ogni auto che al momento non passa su questo pezzettino dia 10 si riversa sulla viabilità cittadina di fatto intasandola insomma 705 giorni dopo questo crollo il crollo del ponte Morandi questo nuovo ponte per una città grazie ad Oscar Puntella grazie Oscar ora Ministro sembra dunque essersi risolta la nosa perché risaleva due anni fa a questione delle autostrade io al di là dei tecnicismi degli aspetti giuridici vorrei chiedere qualcosa di concreto cioè che cosa cambierà per gli utenti nel senso lo Stato che al momento diventa gestore di quelle autostrade appunto di cui parlavamo sarà in grado ad esempio di calmierare le tariffe faccio un esempio oppure bisogna temere che vengano aumentate le manutenzioni che erano il punto dolente appunto della precedente gestione i servizi che succede adesso? Innanzitutto io mi occupo di questo dossier dalla fine di settembre dell'anno scorso e confermo quanto oggi ho detto più volte questo è stato uno dei dossier più complicati che ho affrontato nella mia vita istituzionale che è diciamo così che ha avuto anche qualche passaggio complicato anche prima ma qui era veramente molto complicato detto questo lo Stato non subentra all'attuale proprietà che è di Atlantia che è un gruppo controllato dalla edizione che è della famiglia Benetton ma ci sarà un aumento di capitale con la presenza da parte di Cassa Depositi e Prestiti che è fuori dal perimetro del bilancio dello Stato e che gestisce il risparmio postale quindi in realtà è un'operazione che consentirà la trasformazione di autostrade per l'Italia in una public company che è una cosa sostanzialmente diversa consentirà futuro adesso le autostrade però vanno gestite adesso che è una cosa molto diversa da un'azienda statale dopo l'aumento di capitale di Cassa Depositi e Prestiti entreranno altri investitori istituzionali che anche loro gestiscono il risparmio degli italiani e in ultima battuta ci sarà una quotazione in borsa e quindi gli italiani direttamente anche singolarmente potranno accedere a questo investimento costi, tariffe concretamente alle tariffe verrà applicato il nuovo modello di tariffazione dell'autorità di regolazione dei trasporti che prevede una remunerazione molto più bassa degli investimenti da parte del concessionario cosa significa? Significa che gli incrementi rispetto che vengono fatti di anno su anno rispetto al passato saranno decisamente più bassi ma soprattutto noi all'interno dell'accordo di transazione sulla concessione abbiamo previsto che l'attuale gestione di Aspi riconosca allo Stato 3 miliardi e 400 milioni che lo Stato potrà destinare o alla riduzione di tariffe in aree specifiche della rete dei 3 mila chilometri di rete oppure potranno essere abbassati in maniera lineare a tutti o ad alcune categorie questa è una decisione che prenderemo come ho sempre detto anche in questo caso collegialmente sulle manutenzioni sono previsti piani di investimenti che verranno innanzitutto raddoppiati rispetto al passato ma soprattutto saranno controllati rispetto al passato con un sistema di controllo che è duplice da una parte il potenziamento della direzione nostra della direzione delle concessioni autostradali del ministero e in più abbiamo costituito come previsto peraltro dalla legge Genova dal decreto Genova abbiamo costituito l'autorità che controlla sia gli interventi ferroviari ma abbiamo allargato questi poteri agli interventi stradali autostradali cosa significa? significa che come abbiamo fatto in questi giorni già in Liguria già in Abruzzo già nelle Marche i nostri ispettori vanno a rendersi conto se i controlli che sono stati fatti dalle società autostradali corrispondono ai controlli che facciamo noi se c'è un disallineamento noi facciamo rifare tutti i controlli sulla base di un'altra novità che abbiamo introdotto a gennaio che sono le nuove linee guida per la sicurezza sui ponti e sulle gallerie emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici quindi una radicale rivoluzione nel rapporto tra Stato concessionario cittadini radicale la fermo un attimo il Ministro ha citato la Liguria abbiamo visto immagini della Liguria anche in questi giorni insomma molto complesse chiaramente non c'entra niente con quello che è stata poi l'evoluzione successiva dal punto di vista societario però direttore insomma che cosa si può sperare ma io penso che il Ministro sarà d'accordo nell'affermare che il sistema paese sconta un ritardo enorme nelle infrastrutture che non è il ritardo di oggi che si è accumulato negli ultimi 30 anni cioè l'Italia ebbe un grande slancio nell'immediato dopoguerra negli anni 50-60 quando riuscimmo a fare addirittura l'autostrada del sole in 7 anni e io dico sempre che se la dovessimo rifare impiegheremo 70 anni perché finiremo davanti al Tar o al Consiglio di Stato e appunto voglio intrecciare col Ministro il tema infrastrutture con il tema Europa in che senso? Se arriveranno e lo auspichiamo tutti questi 80 miliardi per esempio a fondo perduto più quelli che ci prestano e anche i soldi ipotizziamo anche i soldi del MES no? D'accordo noi abbiamo la capacità di spendere in tempi rapidi bene con efficiente questa grande massa finanziaria che verrà messa a nostra disposizione cioè abbiamo i progetti le procedure i meccanismi per poter spendere tutto ciò ma sulle procedure sicuramente l'intervento che viene fatto col decreto legge e semplificazioni che è stato da poco pubblicato in gazzetta ufficiale consente sulla parte infrastrutturale molte accelerazioni e anche consente di liberare coloro che si devono assumere delle responsabilità per prendere le decisioni di alcuni pesi burocratici che invece a legislazione vigente erano previsti detto questo noi abbiamo avuto un problema di progettazione in questi anni anche legato al fatto che il blocco del turnover non ha consentito di sostituire tutta quella parte di progettisti ingegneri architetti geometri sui vari livelli istituzionali dai comuni fino al ministero fino ai nostri provveditorati che sono il braccio diciamo così operativo del ministero sul territorio fino alle grandi stazioni appaltanti come RFI piuttosto che ANAS c'è stato diciamo così una contrazione sul fronte dei progetti questo è stato uno dei lavori che abbiamo fatto quando siamo arrivati senza sapere ovviamente che ci sarebbero stati i recovery fund quello di rafforzare la fase della progettazione perché quando hai i progetti con gli interventi legislativi che abbiamo fatto allora tu puoi mettere a gara ovviamente le risorse ci sono per i primissimi anni di realizzazione delle infrastrutture arrivando anche le risorse dei recovery fund noi potremo accelerare alcuni investimenti che magari erano previsti fra tre anni questo ci consentirà di avere tanti cantieri aperti questo ci dirà che avremo anche dei disagi perché per i cantieri ci sono anche i disagi ma consentirà di avere lavoro e di lasciare al futuro di questo paese più infrastrutture e soprattutto le infrastrutture che già abbiamo meglio manutenute più manutenute grazie grazie al ministro De Micheli perché noi dobbiamo chiudere adesso ci segue Made in Sud ultima puntata della stagione subito in collegamento con lo studio di Napoli Trotta De Martino Izzo buonasera a voi ha chiamato come a scuola Trotta De Martino Izzo siamo qui siamo qui prontissimi tutti presenti siamo in diretta quindi non cambiate canale aspettate perché tra un pochissimo quanti minuti niente niente ora non mi perdete l'ultima puntata perché è straordinaria già si ride è un'attata speciale a tra poco grazie allora ministro grazie per essere intervenuta a TG2 Post grazie a voi buon lavoro buonasera grazie a voi per averci seguito fino a qui domani sempre alle 21 TG2 Post buona serata buona serata